Assessore Giuseppe Speranza arriva dalla città metropolitana il via libera al progetto di restyling della tendo struttura La Salle. Sì, è di oggi pomeriggio la notizia arrivata via PEC che la città metropolitana ha approvato un finanziamento da noi richiesto alcuni mesi fa, circa tre mesi fa, per la riqualificazione della tendo struttura La Salle. Di che finanziamento parliamo? Un importo che io riterrei esigo, ma sufficiente da unire agli altri 100 mila euro che avevamo già messo in previsione, quindi sono 100 più 130, abbiamo un importo di 230 mila euro, dovremmo farcela almeno a riqualificare la tendo struttura La Salle, che a dire la verità ne ha veramente bisogno, negli ultimi tempi si è abbastanza locorata, quindi dobbiamo intervenire al più presto. In particolare la riqualificazione che cosa riguarderà? Dobbiamo sostituire la tendo struttura che in più parti è locorata, consumata, addirittura in alcuni momenti se piove forte corriamo i rischi anche di allagarci all'interno della struttura. Quindi adesso quando partiranno questi lavori? È stato approvato e finanziato il progetto esecutivo, adesso spetterà agli uffici nostri, in particolare l'ufficio per l'edilizia sportiva, iniziare l'iter per la riqualificazione vera e propria. Abbiamo qualche difficoltà perché in questo periodo le società sportive si allenano all'interno della tendo struttura, anzi è proprio di stamattina la richiesta da parte di una scuola che ne faceva richiesta perché non ha palestre e parteciperanno ai giochi della gioventù, se ho capito bene, c'è un'iniziativa del genere, quindi avremo questo tipo di difficoltà ma in un modo o nell'altro supereremo, magari appoggiandoci alle palestre scolastiche per un periodo di tempo e sicuramente possiamo poi dare alla città e agli sportivi e a chiunque ne fa richiesta una struttura adeguata e sicuramente all'altezza della situazione.